Sono Gianni Roini, a Toscana, quindi Forte dei Marmi, il posto più bello del mondo. Sono qua a parlarvi di PDH. PDH è il nuovo progetto che abbiamo preparato in questi giorni e siamo pronti. Finalmente riusciamo a offrire ai club, alle scuole di sci, alle formazioni maestri il prodotto che a nostro avviso a loro serve. Abbiamo creato un laboratorio all'interno di Podio, una costola di Podio sarà dedicata esclusivamente a questo nuovo progetto. Per noi è bellissimo, cureremo la personalizzazione e la customizzazione tutta in Italia e quindi verrà un prodotto molto attuale, molto nuovo, molto tecnico perché siamo stati coadiuvati dai nostri tecnici nazionali e insieme a dei ragazzi creativi che hanno studiato in maniera specifica questo tipo di realizzazione e contiamo di fare qualcosa di veramente eccezionale. Ripeto, Made in Italy consegna in 60 giorni, quindi tutti gli ordini che acquisiremo entro settembre verranno consegnati a novembre. Sarà una cosa che studieremo insieme a voi, insieme ai club, che ci contatteranno in questi giorni, che riceveranno da noi delle newsletter per poi iniziare a lavorare insieme e cercare di fare qualcosa di veramente, veramente bello insieme.